Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Laura Norato, farmacista e nutrizionista biologa. Da diversi anni collaboro col Centro Rizza di Medicina Naturale e al contempo partecipo alla parte editoriale relativa alle riviste. Questo mese, nel numero di dimagrire attualmente in edicola, parliamo di dieta liquida. Agosto è il mese ideale per mettere in atto questa dieta, una dieta molto efficace che in breve tempo, solo 48 ore, ci permetterà di eliminare i liquidi in eccesso, ci farà sentire meno gonfi e ci farà ritrovare il nostro peso forma. I protagonisti di questa dieta sono frullati e centrifugati a base di frutte e di verdura, tisane e brodi che non necessariamente devono essere bevuti caldi ma possono essere assunti anche a temperatura ambiente e naturalmente l'acqua che non deve mai mancare. Tantissimi benefici che otterremo. Faremo il pieno di nutrienti anti-adipe, sveglieremo l'intestino e la nostra linea. Troverete maggiori approfondimenti nel numero di dimagrire attualmente in edicola. Buona lettura!